Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere siamo sempre qui con mio padre e questa volta ci mangiamo i snack americani ci mangeremo ragazzi snack americani considerate che qua dentro ci sono, non vi scherzo, 4 kg di roba 90 euro di snack, veramente il sito ve lo lascio qui sotto in descrizione non per dire ma questo sito spedisce snack americani però il negozio ce l'ha a Caltanissetta quindi sono italiani, il sito è totalmente in italiano e questi snack ragazzi me li sono scelti io mi ha contattato il sito e mi ha detto 300 euro di budget ma Tony B, scegli quello che vuoi e noi te lo spediamo va bene, ragazzi guardate qua 100 euro di roba, ma Tony tutta roba americana ragazzi, seriamente mi sono informato tutta roba americana sono marche che in America sono famosissime e a proposito, nel mio caso è stata molto veloce perché da Caltanissetta a Palermo è sempre in Sicilia questo pacco l'hanno spedito alle 20 del 31 agosto ed è arrivato oggi che è primo settembre è tipo verso le 3 arrivata abbastanza veloce e vi dicevo, queste patatine se le cercate su internet le Citos è una marca di patatine famosissima quindi questo sito ve lo consiglio seriamente e caldamente semplicemente perché è in italiano e perché è veloce poi la roba costa relativamente come siamo abituati quindi 2, 3 euro, 4 euro dipende da quello che prendete dipende da quello che prendete ma rispetto agli altri siti non che faccia uno schifo ma questa è più maneggevole io stesso quando sceglievo le cose le mettevo nel canale era abbastanza semplice tutto fatto detto ciao ragazzi io direi di non perdeci in ghiacchiere e oggi voglio fare un video totalmente dedicato a questa marca la Snyder's ragazzi guardate ragazzi ce n'è un casino vedete? vedete? sono tutti diversi eh? ah queste qua papà ti piaceranno sono all'onion sai cos'è onion in inglese? l'onion a lui ci piace l'onion poi aspetta che non è finita non è finita vorrebbe essere alza roba no padre le devi mangiare da quando è che tu sai cos'è l'onion? lo so cos'è l'onion non la c'è po' no lo so guarda qua un altro di questo la roba c'è eh? ah poi ci sono tante di stesse eccole qua eccole qua quelle che devo mangiare con la mia ragazza in un prossimo video le Harry Potter caramelle mmm che buona ragazzi tutta questa roba la mangieremo in un prossimo episodio oggi ci dedicheremo a questa marca gli Snyder's gli Snyder's allora vai gli Snyder's la prima che andiamo ad aprire è questa di qua per le faccio sapere di quelle caramelle si proprio perchè l'abbiamo mangiata e avevo paura questa qua le teniamo alla fine perchè sicuramente a papà gli piaceranno iniziamo da questo tipo che questo è la SEMBECCA jalapeno quindi sai cos'è il jalapeno? io pensavo fossero cose buone ma hanno l'odore della merda che abbiamo che cazzo hai scelto tieni papi ti mangia che buono è buono buono mangia vai 3 2 1 l'acqua per favore esagera vabbè esagera vuole le prove che carne è questa? salatino il salatino non ha niente ha bruciatine forse stai mangiando? mangia 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 cos'è che ti dovrei prendere a schiaffi tantissimo guarda il disegno che cosa c'è? cazzo e ci sei andato due volte ah 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 sei scosso se voto a queste patatine non lo so snack comunque lalapinion bruciavano ma non troppo 5 io ci do 5 si una cosa del gel ta 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 sweet and salad sweet and salty vuol dire dolce e salato caramello salato che schifo che schifo non ci possono mangiare vai lo li fanno schifo guarda che schifo questo è qua no che schifo no guarda che schifo guarda prova 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 che schifo i mangiabili allora come voto gli do 7 io 5 e mezzo non ci vò snedders è la marca devi leggere cheddar cheese formaggio cheddar vai che poi non ho capito guardate sono scaglie di qualcosa ha quel sapore di niente che è buono che dopo tutti questi nomi esatto è buono ma è pane l'uno come voto un 4 vabbè 6 perché si può mangiare non ci vò questo bufalo wing va detto bene hot buffalo o buffalo wing in giapponese tipo direbbero hot buffalo wing no papi tu fai questo lavoro quindi l'odore è quello cos'è lo usi spesso sard e silicone ricorda il silicone è acido come il silicone però vede qua faccia un sapore buono vede qua vediamo è vero che vede il silicone non sono i migliori non sono i barri altri a me non piace 2 adesso finalmente no 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 non è cipolla è one in mustard quindi mostarda miele e onion l'onion è la cipolla no l'onion è l'unione sovietica onion non mi adorare no 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 l'odore no io te ne faccio adorare e io voglio adorare papi non lo puoi adorare papi qua come diciamo noi a fare un bel domoccone papi un bel domoccone ecca tutte cose lì inizia quasi cose questi qua alla cipolla davvero oddio cipolla classifica il primo posto se lo contengono caramello e questa la cipolla wow ragazzi veramente se ne avete l'occasione provata anche perché questa busta è proprio questo dovrebbe costruire tipo 3,99 euro o forse 4,99 e due persone ci mangiano tranquillamente 350 grammi che ragazzi è ancora nella scatola c'è carne siccata ma poi questi con la cipolla sono così ma comunque il deciso al primo posto non è che caramello devo dire che questo qua snyder porca vacca assolutamente cazzo ci sta ci sta anche se io sono ancora tanto curioso per questo questo è molto stile americano ragazzi ovvero carne essiccata al peperoncino ma tutte queste cose le faremo in un prossimo video ragazzi siamo sazi quindi basta abbiamo pranzato con queste cose devo dire che assolutamente questi snack in particolar modo ve li consiglio davvero poi con la cosa pure che vengono qua da con il tenisetta complimenti veramente da questo sito anzi fatemelo sapere qui sotto nei commenti magari gli chiederò se hanno altra roba no perché questi hanno roba veramente interessante ragazzi seriamente non le avevo mai mangiate queste cose sono particolarissime hanno sapori molto particolari sono tipo piscini macinati però più grossi e più più duri e più croccanti scherzi a parte non so se il sito vedrà questo video comunque sono italiani quindi se avete altra roba a carità ma va bene buona buona veramente piccola premessa beh boh sei stato pagato per dire che la roba è buona vi giuro veramente se andavate qua me la facciamo provare quando una cosa è buona dico che è buona quando una cosa fa cagare dico che fa cagare queste facevano cagare a cagare di brutto poi vabbè sono sempre snack che vanno appalato ma io ve li consiglio questi snack qua della Snyder ma trovi il consiglio è la Poki se mai volessi andare a lavorare da qualcuno o dalla Snyder o dalla Poki che stai facendo tu la targa della SS sassari io sono senza parole SS cos'è? sassari io spero che il video oggi mi sia piaciuto no 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 ma scusa ma SS sassari detto ciò ragazzi io spero di dire che vi sia piaciuto ma tu mi cazzano la papasta questa roba è stasera per cena invece che un buccio vino vi voglio bene e ciao 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 a tutti un bacino a tutti sulla fronte finisce la saliva al centocinquantesimo ragazzo che ti vede il bacino con la fronte mi chiamo ormai tutto surato mi chiamo tutto surato che mi cazzo che con grasso che lavorano il cantiere navale che li trovo il gas mi chiamo ma andiamo in tuo uomo su una cosi mi chiamo la dick senza mi posso lasciare mi metta un beco mettetevi a un beco ciao ragazzi grazie